Allora Elisa, una partita splendida, una vittoria strameditata e soprattutto per te perché ti abbiamo visto una settimana difficile col mal di schiena, quando sei entrata hai spaccato veramente il mondo, l'entrata con tre bombe di fila, cosa hai provato in questi momenti? Liberazione, perché veramente le ragazze anche durante la settimana mi hanno aiutato un sacco per questo mio problema e veramente lo meritavo io, ma soprattutto lo meritavamo noi per tutto il lavoro che abbiamo fatto e facciamo ogni giorno. Infatti è stata una vittoria tua specialmente, ma di tutto il gruppo di vostro, esatto. Adesso questa partita era importante perché di dietro si stavano facendo sotto Umberti di San Giovanni, abbiamo dimostrato di esserci e andiamo giù venerdì a Campobasso, cariche. Carichissime. Come vedi questa manifestazione giù a Campobasso? Non parlo. Non parli, va bene. Noi dure e cariche sempre. Beh, cerca questa settimana di allenarti bene e di guarire dal mal di schiena che ti vogliamo come stasera. Grazie mille. Grazie Lisa.